Guarda Luca, intanto ti ringrazio, ringrazio davvero tutti i tuoi collaboratori e io ci tengo a dire questo, ci tengo a ricordare il senso anche dello stesso titolo del programma, si parla al plurale, non si parla mai al singolare e questa è la cosa che forse ci deve contraddistinguere e deve contraddistinguere sempre tutto quello che facciamo, che siamo rappresentanti o che siamo singoli studenti, non dobbiamo mai dimenticarci che se lo siamo è perché possiamo permetterci di esserlo, possiamo permetterci di pagare le tasse universitarie, possiamo permetterci di avere tutta una serie di servizi che magari altri studenti non hanno, altri giovani non hanno. Questo è forse quello che dobbiamo ricordarci sempre, il fatto che sì, siamo noi, ma forse dobbiamo ricordarci anche di chi non riesce, non ha le possibilità economiche, sociali, per poterci arrivare e ricordarci di loro in tutto quello che facciamo ogni giorno. Io penso che sia una cosa fondamentale.